Canto di Natale, strofa seconda, il primo dei tre spiriti. Quando Scrooge si svegliò, era così buio che guardando fuori dal letto riuscì astento a distinguere la finestra trasparente dalle pareti opachie della camera. Stava tentando di perforare l'oscurità con i suoi occhi di falco, quando le campane della chiesa là vicino batterono i quattro quarti, così rimase in ascolto aspettando l'ora. Con suo grande stupore, la pesante campana passò da sei a sette, poi da sette a otto e così via in modo regolare, fino a dodici. Poi si fermò a mezzanotte. Erano le due passate quando era andato a letto. L'orologio si sbagliava. Doveva essere finito un ghiacciolo nel meccanismo. Mezzanotte! Toccò la molla del suo orologio a ripetizione, per correggere l'altro così strambo. Il suo battito lieve e rapido si sentì dodici volte, poi si arrestò. Ma com'è possibile? Disse Scrooge. Che io abbia dormito un giorno intero e fino a notte tarda. Non è possibile che sia accaduto qualcosa al sole e che sia mezzogiorno. Essendo quell'idea molto allarmante, balzò giù dal letto e andò tastoni alla finestra. Dovette sfregare il ghiacciolo con la manica della vestaglia prima di poter scorgere qualcosa. Poi riuscì comunque a vedere molto poco. Tutto quello che notò fu che c'era ancora molta nebbia, che faceva un freddo terribile, e che non c'era alcun rumore di gente che andava e veniva, né il subuglio che ci si sarebbe aspettato senz'altro se la notte avesse sconfitto il giorno luminoso e si fosse impossessata del mondo. Quello fu un gran sollievo, perché se non ci fossero stati più giorni da contare, i vari a tre giorni dall'aver ricevuto questo primo avviso pagare a Ebenezer Scrooge o a un suo ordine, e tutto il resto, avrebbero avuto lo stesso valore dei titoli emessi dagli Stati Uniti. Scrooge tornò a letto. Pensò e ripensò più e più volte, e non riusciva a venire a capo di nulla. Più ci rifletteva, più era perplesso, e più si sforzava di non pensarci, più ci pensava. Il fantasma di Marley lo turbava moltissimo. Ogni volta che decideva, dopo una riflessione matura, che era tutto un sogno, la sua mente ritornava alla posizione originaria, come una forte molla liberata, ripresentandogli lo stesso problema su cui dover ragionare ancora una volta. Era un sogno oppure no? Scrooge rimase in quello stato fino a che la campana ebbe suonato altri tre quarti d'ora. Poi ad un tratto ricordò che il fantasma l'aveva avvertito di una visita allo scoccare del luna. Decise di restare sveglio fino al passare di quell'ora. E considerando che non riusciva a dormire più di quanto sarebbe riuscito ad andare in cielo, quella forse era la risoluzione più saggia che potesse prendere. Quel quarto d'ora era così lento che più di una volta si convinse di essere caduto in un torpore senza rendersene conto, e di non aver così sentito l'orologio. Alla fine gli arrivò all'orecchio in ascolto. Din don e un quarto, disse Scrooge contando. Din don e mezza, esclamò Scrooge. Din don, meno un quarto, disse Scrooge. Din don, luna, disse Scrooge trionfante, e nient'altro. Parlò prima che la campana suonasse, cosa che fece in quel momento battendo luna con un suono profondo, fiacco, vuoto e malinconico. All'istante la luce brillò nella stanza, e le tende del suo letto vennero tirate. Le tende del suo letto vennero tirate, vi dico, da una mano. Non quelle ai suoi piedi, né quelle dietro la sua schiena, bensì quelle verso cui era rivolto il suo viso. Le tende del suo letto vennero tirate, e Scrooge, drezzandosi a sedere, si trovò faccia a faccia con il visitatore oltraterreno che le aveva tirate. Tanto vicino quanto lo sono io ora a voi, e io sono, nello spirito, proprio qui al vostro fianco. Era una strana figura, come quella di un bambino. Eppure, più che un bambino, era un viso visto attraverso qualche mezzo soprannaturale, che lo faceva apparire come se si fosse allontanato e rimpicciolito fino a raggiungere le proporzioni di un bambino. I capelli che gli scendevano lungo il collo e la schiena erano bianchi come per la vecchiaia. Eppure il viso non aveva una ruga, e la pelle era la più fresca e tenera che ci fosse. Le braccia erano molto lunghe e muscolose, così le mani, come se la sua presa fosse di una forza non comune. Le braccia e i piedi molto delicati, come gli arti superiori, nudi. Portava una tunica bianchissima, e intorno alla vita aveva legata una cintura splendente, di un meraviglioso lucente. In mano aveva un ramo verde di agrifoglio fresco, e in singolare contraddizione con quell'emblema invernale, il vestito era urlato di fiori estivi. La cosa più strana, però, era che dalla cima della sua testa spuntava un raggio di luce chiarissima, che rendeva visibile tutto quanto. E che senza dubbio spiegava l'utilizzo da parte sua, nei momenti più monotoni, di un grande spegnimoccolo come cappello, che adesso teneva sotto il braccio. Questa però per Scrooge, che l'osservava con attenzione sempre crescente, non era la sua prerogativa più strana. Perché la sua cintura scintillava e brillava ora da una parte e ora dall'altra, e ciò che la luce un momento, l'istante dopo era buio, facendo così fluttuare quella figura nei suoi contorni, trasformandola ora in una cosa con un braccio, ora con una gamba, poi con venti, poi con un paio di gambe senza testa, e infine in una testa senza il corpo. E le parti che si dissolvevano non avevano più contorni visibili nella fitta oscurità in cui si fondevano. Dopo questa grande meraviglia però, tornava a essere quella che era prima, distinta e chiara come sempre. «Signore, siete voi lo spirito la cui venuta mi era stata predetta?» domandò Scrooge. «Sì». La voce era dolce e gentile, particolarmente bassa, come se invece di essergli stato vicino si trovasse a una grande distanza. «Chi? E che cosa siete?» volle sapere Scrooge. «Sono il fantasma del Natale passato». «Passato da molto?» chiese Scrooge, osservando la sua statura da nano. «No, del tuo passato». Forse Scrooge non avrebbe saputo dire a nessuno il perché, se qualcuno avesse potuto domandarglielo, ma aveva uno speciale desiderio di vedere lo spirito con il suo cappello addosso e lo supplicò di coprirsi. «Ma come?» esclamò il fantasma. «Vorresti spegnere così presto, con mani mortali, la luce che emano. Non basta che tu sia uno di quelli le cui passioni hanno fatto questo cappello e che mi costringono a calcarmelo sulla fronte per anni e anni di fila». Scrooge con rispetto negò ogni intenzione di offendere o di aver mai saputo consciamente di aver incappucciato lo spirito in qualsiasi periodo della sua vita. Poi si fece coraggio, sino a domandargli che cosa lo portava fino a lì. «Il tuo benessere!» esclamò il fantasma. Scrooge espresse la propria gratitudine, ma non poteva fare a meno di pensare che una notte di riposo ininterrotto sarebbe stata più efficace a quello scopo. Lo spirito dovette aver sentito quel pensiero, perché subito disse «Allora, la tua conversione, fai attenzione!». Mentre parlava, tese la sua forte mano e lo afferrò con dolcezza per il braccio. «Alzati e cammina con me!». Sarebbe stato vano per Scrooge supplicarlo che il tempo e l'ora non erano adatti a propositi i pedestri, che il letto era caldo e il termometro assai sotto lo zero, che le pantofole, la vestaglia e la berretta da notte lo riparavano appena e che in quel momento aveva anche il raffreddore. Alla presa, sebbene fosse dolce come quella della mano di una donna, non si poteva resistere. Si alzò, vedendo però che lo spirito si avviava verso la finestra, afferrò il suo vestito supplicandolo. «Sono mortale!», protestò, «ed è probabile che cada!». «Lascia solo che ti tocchi la mano qui», disse lo spirito, posandola sul suo cuore, «e sarai sostenuto in cose più grandi di questa». Mentre pronunciava quelle parole, attraversarono il muro e si trovarono su una strada di campagna, con i campi su entrambi i lati. La città era del tutto scomparsa. Non se ne vedeva più alcuna traccia. Il buio e la foschia erano spariti con lei, perché era adesso una giornata invernale limpida e fredda, e la neve ricopriva la terra. «Santo cielo!», esclamò Scrooge unendo le mani, mentre si guardava intorno. «Sono cresciuto in questo posto! Ci sono stato quando era un ragazzo!». Lo spirito lo guardò con tenerezza. Al vecchio sembrava ancora di avvertire il suo tocco gentile, sebbene fosse stato leggero e rapidissimo. Aveva risvegliato i suoi sensi e sentiva mille odori nell'aria, ognuno collegato a mille pensieri, speranze, gioie e preoccupazioni, dimenticate tanto, tanto tempo prima. «Il tuo labbro trema», disse il fantasma. «E cosa c'è sulla tua guancia?». Scrooge borbottò con un'insolita incertezza nella voce, che era un foruncolo, e supplicò il fantasma di portarlo dove voleva. «Ti ricordi la strada?», domandò lo spirito. «Ricordarla!», gridò con fervore Scrooge. «Potrei andarci anche bendato!». «Strano averla dimenticata per tanti anni», osservò il fantasma. «Andiamo!». Camminarono lungo la strada, e Scrooge ne riconosceva ogni cancello, ogni palo e ogni albero, fino a che in lontananza apparve una piccola cittadina, con il suo ponte, la sua chiesa, e il fiume con le sue anse. Adesso si vedevano poni dal pelo lungo che trottavano verso di loro con dei ragazzi in groppa, che chiamavano altri ragazzi sui carretti e calessi campagnoli, guidati dai contadini. Tutti quei ragazzi erano di ottimo umore, e gridavano l'uno all'altro, fino a che i vasti campi risuonarono di quella musica lieta, tanto che l'aria frizzante rideva nell'ascoltarli. «Sono solo ombre di ciò che è stato», disse il fantasma. «Non si accorgono di noi». Quegli allegri viandanti si avvicinavano, e mentre arrivavano Scrooge riconobbe e pronunciò il nome di ognuno, perché era così contento di vederli, perché i suoi freddi occhi brillavano e il suo cuore sussultava mentre gli passavano accanto, perché si riempì di felicità quando sentì che si auguravano Buon Natale a vicenda, quando si separavano agli incroci e alle vie secondarie, per andare ciascuno a casa propria. «Cosa era per Scrooge il Buon Natale? Basta con quel Buon Natale! Quale bene gli aveva mai fatto?» «La scuola non è vuota del tutto», disse il fantasma. «C'è rimasto un bambino solitario, trascurato dagli amici». Scrooge disse che lo sapeva, e pianse. Lasciarono la strada principale e imboccarono una stradina che ricordava bene, e presto raggiunsero una casa molto grande, di cupi mattoni rossi, con un piccolo segnavento che sormontava il culmine del tetto, e una campana che vi pendeva nel mezzo. Era un edificio molto vasto, ma sfortunato, perché gli uffici spaziosi erano usati pochissimo, i loro muri erano umidi e muscosi, le finestre erano rotte, e i cancelli in rovina. Poi li chiocciavano e camminavano impettiti nelle stalle, le rimesse e i capanni erano ricoperti d'erba. Neppure dentro conservava il suo antico stato, perché entrando nel triste ingresso, e guardando attraverso le porte aperte di tante stanze, le videro ammobiliate poveramente, fredde e desolate. C'era un sentore di terra nell'aria, una nudità gelida in quel posto, che si associava in qualche modo a troppe sveglie al lume di candela, e a troppo poco da mangiare. Il fantasma e Scrooge andarono attraverso il vestibolo fino a una porta sul retro della casa. Si aprì davanti a loro, e mostrò una stanza lunga, spoglia e malinconica, resa ancora più spoglia da file di semplici panche e banchi. A uno di questi, un ragazzo solitario, leggeva accanto a un focherello. E Scrooge si sedette su una panca, e pianse nel vedere se stesso, povero e dimenticato come era un tempo. Nessun eco nascosto nella casa, non un squittio o un trapestio dai topi dietro i rivestimenti, nessuna goccia che cadesse dalla fontanella semicongelata nel triste cortile là dietro, non un sospiro fra i rami senza foglie di un pioppo scoraggiato, né lo scillare ozioso della porta di un magazzino vuoto. No, neanche un crepitio nel fuoco, ma sul cuore di Scrooge tutto ciò ebbe un'influenza dolce, che rese più libero lo scorrere delle sue lacrime. Lo spirito lo toccò su un braccio, e gli indicò il bambino che era stato Scrooge, intento alla lettura. All'improvviso un uomo vestito da straniero si fermò fuori dalla finestra. Era meravigliosamente reale e nitido, aveva un'ascia infilata nella cintura, e conduceva un asino carico di legna. Ma è come Alibaba, esclamò estatico Scrooge. È il vecchio e onesto Alibaba, sì, lo conosco. Una volta a Natale, quando quel bambino introverso era stato lasciato lì tutto solo, lui arrivò per la prima volta, proprio così. Povero ragazzo. È Valentin, disse Scrooge, e il suo selvatico fratello Orson. Eccoli. E lui, come si chiamava, che venne messo in mutande addormentato davanti alla porta di Damasco. Non lo vedete? È il palafreniere del sultano messo sottosopra dal genio. Eccolo, sta là a testa in giù. E sta bene, sono contento. Cosa c'entrava che lui sposasse la principessa? Sentire Scrooge che metteva tutta la serietà della sua natura in cose del genere, con una voce stranissima a metà tra il riso e il pianto, vedere il suo viso sollevato ed eccitato, quella sarebbe stata proprio una sorpresa per i suoi colleghi in città. Ecco il pappagallo, gridò Scrooge, con il corpo verde e la coda gialla, e una cosa che sembra lattuga che gli spunta dalla testa. Eccolo! Povero Robinson Crusoe, lo chiamava quando tornava a casa dopo aver navigato intorno all'isola. Povero Robin Crusoe, dove sei stato, Robin Crusoe? Lui pensava di sognare, invece non era così. Era il pappagallo, sapete. Ed ecco venerdì, che corre a perdifiato verso il fiume ciattolo. Salve! Olá! Salve! Poi con un cambiamento repentino, molto strano rispetto al suo contegno abituale, esclamò provando una gran pena per se stesso bambino. Povero ragazzo! E pianse di nuovo. Vorrei... Balbettò Scrooge, infilandosi la mano in tasca e guardandosi intorno, dopo essersi asciugato gli occhi con il polsino. Ma adesso è troppo tardi. Cosa succede? Domandò lo spirito. Niente, rispose Scrooge. Niente. Ieri sera c'era un ragazzo che cantava un canto di Natale davanti alla mia porta. Vorrei avergli dato qualcosa. Ecco tutto. Il fantasma sorrise pensoso e agitò la mano, dicendo, mentre lo faceva, guardiamo un altro Natale. A quelle parole lo Scrooge dei tempi andati divenne più grande e la stanza divenne un pochino più buia e più sporca. I rivestimenti alle pareti si ritirarono. Le finestre si ruppero. Frammenti di intonaco caddero dal muro, mostrando così la nuda incannicciata. Com'era avvenuto tutto questo? Scrooge non ne sapeva più di voi. Sapeva solo che era giusto. Che ogni cosa era avvenuta in quel modo. Che lui era lì, ancora una volta solo, mentre tutti gli altri ragazzi erano tornati a casa a trascorrere vacanze allegre. Adesso non stava leggendo. Camminava invece in su e in giù disperatamente. Scrooge guardò il fantasma e, scuotendo la testa con tristezza, guardò con ansia verso la porta. Si aprì. E una bambinetta, molto più piccola del ragazzo, entrò di colpo e, buttandogli le braccia al collo e baciandolo spesso, si rivolse a lui dicendogli «Caro, caro fratello». «Sono venuta per portarti a casa, caro fratello», disse la bambina battendo le manine, chinandosi e scoppiando a ridere. «Per portarti a casa, a casa». «A casa, piccola fan», replicò il ragazzo. «Sì», insistette la bambina piena di gioia. «A casa per davvero, a casa e per sempre. Papà è molto più buono di prima e casa adesso è come il paradiso». «Una bella sera, mentre stavo andando a letto, mi ha parlato con tanto garbo, che non ho avuto paura a chiedergli un'altra volta se potevi tornare a casa. E lui ha detto sì, che potevi, e mi ha mandato con una carrozza a prenderti, e tu diventerai un uomo», continuò la bambina spalancando gli occhi, «e non tornerai mai più qui. Prima però dobbiamo restare insieme per tutto il Natale e trascorrerelo nel modo più allegro possibile». «Sei proprio una donna, piccola fan», esclamò il ragazzo. Lei batte le mani e rise, cercando di toccargli la testa, ma era troppo bassa. Così rise di nuovo e si mise in punta di piedi per abbracciarlo. Poi lo trascinò con la sua vehemenza infantile verso la porta, e lui, per nulla ristio, l'accompagnò. Una voce terribile nel corridoio gridò «Portate giù il baule del signorino Scrooge!» e apparve il preside della scuola in persona, che fissò il signorino Scrooge con condiscendenza e ferocia, mettendolo in grande agitazione quando gli strense la mano. Poi condusse lui e la sorella in un parlatoio, che sembrava un vero e proprio pozzo, come non se ne erano mai visti, dove le carte alla parete e i globi celesti e terrestri alle finestre erano lucidi dal freddo. La prese una brocca piena di un vino stranamente leggero e un pezzo di una torta stranamente pesante, e somministrò delle porzioni di quella raffinatezza ai due giovani, mandando poi allo stesso tempo un servitore macilento a offrire un bicchiere di qualcosa al postiglione, il quale rispose che ringraziava il signore, ma se veniva dalla stessa spina che aveva già assaggiato, preferiva di no. A quel punto, poiché il baule del signorino Scrooge era già stato legato sulla carrozza, i bambini contenti salutarono il preside e saliti se ne andarono. Le ruote veloci sollevavano la brina bianca e la neve dalle foglie scure dei sempreverdi, come se fosse stata spuma. È sempre stata una creatura delicata che una brezza avrebbe potuto far appassire, disse il fantasma, ma aveva un grande cuore. Proprio così, esclamò Scrooge. Avete ragione, non lo negherò, spirito, che Dio ne guardi. È morta quando era già una donna, riprese il fantasma. E aveva, credo, dei figli. Un figlio, replicò Scrooge. Vero, disse il fantasma. Tuo nipote. Scrooge sembrò a disagio e rispose brevemente. Sì. Sebbene si fossero lasciati alle spalle alla scuola solo un momento prima, adesso si trovavano nella via molto trafficata di una città, dove delle ombre e i passanti andavano avanti indietro, dove altre ombre, carri e carrozze, lottavano per farsi strada, con tutte le baruffe e il tumulto di una vera grande città. Era anche piuttosto palese dagli addobbi nei negozi, che era anche qui, era Natale. Però era sera e le strade erano illuminate. Il fantasma si fermò alla porta di un certo magazzino e domandò a Scrooge se lo conosceva. Conoscerlo? Disse Scrooge. Se ci sono stato come apprendista. Entrarono. Alla vista di un vecchio signore con una parrucca, seduto dietro a una scrivania talmente alta che se quello fosse stato più alto di due pollici avrebbe battuto la testa contro il soffitto, Scrooge gridò con profonda eccitazione. Perbacco! È il vecchio Feswig! Che Dio lo benedica! È Feswig! È ancora vivo! Il vecchio Feswig posò la penna e guardò l'orologio, che segnava le sette. Si fregò le mani, si sistemò l'abbondante panciotto, rise con tutta la sua persona, dalle scarpe fino al cuore, e chiamò con una voce piacevole, oleosa, ricca, grassa e gioviale. Ehi voi! Ebenezer! Dick! Lo Scrooge di un tempo, adesso un giovanotto, arrivò in fretta accompagnato dal suo collega apprendista. Certo! Dick Wilkins, come no! Disse Scrooge al fantasma. Benedetto il cielo, certo, eccolo! Mi voleva molto bene Dick, povero Dick, caro caro ragazzo! Allora ragazzi miei! Esclamò Feswig. Niente più lavoro stasera, è la vigilia di Natale, Dick! È Natale, Ebenezer! Mettiamo sulle imposte! Proseguì il vecchio Feswig, battendo rapido le mani. In un batter d'occhio! Non credereste alla foga con cui quei due ragazzi si emisero all'opera. Corsero per la strada con le imposte. Uno, due, tre. Le emisero al loro posto. Quattro, cinque, sei. Le sbarrarono e le fissarono. Sette, otto e nove. E tornarono prima di contare fino a dodici, ansimando come cavalli da corsa. Evviva! Esclamò il vecchio Feswig, scendendo in fretta dall'alta scrivania con una meravigliosa agilità. Spostiamo tutto ragazzi! E facciamo spazio! Forza Dick! Avanti Ebenezer! Spostare tutto. Non c'era nulla che non avrebbero spostato sotto l'occhio vigile del vecchio Feswig. Ci volle un minuto. Ogni mobile venne messo via, come se dovesse venire eliminato dalla vita pubblica per il resto dei suoi giorni. Il pavimento spazzato e lavato, le lampade smoccolate, il combustibile ammassato sul fuoco. E il magazzino divenne accogliente, caldo, asciutto e illuminato, come una sala da ballo, proprio come si sarebbe potuto desiderare in una notte d'inverno. Entrò un suonatore di violino con uno spartito, andò all'imponente scrivania e la trasformò in un'orchestra, accordando poi il suo strumento come cinquanta dolori di stomaco. Entrò la signora Feswig, tutta un sorrisone. Entrarono le tre signorine Feswig, raggianti e amorevoli, poi entrarono i sei spasimanti a cui avevano spezzato il cuore. Dopo fecero il loro ingresso tutti i giovani uomini e donne impiegati colà. Arrivò la domestica con il cugino, il fornaio. Entrò la cuoca con l'amico del cuore del fratello, il lattaio. Arrivò il ragazzo che viveva l'accanto, di cui si sospettava non ricevesse abbastanza da mangiare dal suo padrone. Entrarono tutti, uno dopo l'altro. Alcuni timidamente, altri con spavalderia, alcuni con grazia, altri goffamente, chi spingendo e chi tirando. Tutti entrarono, in ogni modo e da ogni parte. E si spostavano venti coppie alla volte, prendendosi le mani, un mezzo giro e di nuovo indietro dalla parte opposta, giù nel centro della stanza e poi di nuovo su, girando tutto intorno in varie formazioni variamente affettuose. La prima vecchia coppia che era sempre al posto sbagliato, la prima nuova coppia che ricominciava non appena arrivava. Alla fine erano tutte prime coppie, e non ce n'era più neanche una in fondo per aiutarle. Quando quel risultato fu raggiunto, il vecchio Feswig, battendo le mani per fermare il ballo, gridò «Ben fatto!» e il violinista, immerso il viso accaldato in una ciotola di birra scura, messa lì proprio a quello scopo. Ma, disprezzando il riposo, come riapparve, riprese immediatamente a suonare, anche se non c'erano ancora dei ballerini, come se l'altro violinista fosse stato portato a casa, esausto o su un'imposta, e lui fosse un uomo nuovo, determinato a farlo scomparire o morire. Vi furono altre danze, ci furono penitenze, e altre danze ancora, poi della torta, del vino caldo speziato, un grande arrosto, un pezzo bollito di freddo, tortine di frutta secca e tantissima birra. Il culmine della serata però fu toccato dopo l'arrosto e il bollito, quando il violinista intonò il Sir Roger de Coverley. Allora il vecchio Feswig si alzò per ballare con la signora Feswig, ed erano la prima coppia, e con un notevole contorno tutte per loro, ventitré o ventiquattro coppie, gente che non si poteva prendere alla leggera, gente che voleva ballare e che non avrebbe camminato per nulla al mondo. Ma anche se fossero stati il doppio, ah, quattro volte tanti, il vecchio Feswig avrebbe dato loro del filo da torcere, e così la signora Feswig. Quanto a lei, era degna di essere la sua compagna da ogni punto di vista, e se questa non è una grande lode, allora ditemene una più grande, e io la userò. Sembrava che dai polpacci dei Feswig emanassero una luce. Brillavano in ogni parte del ballo come mezzelune. Non si sarebbe potuto prevedere in qualsiasi momento cosa gli sarebbe accaduto poi. E quando il vecchio Feswig e la signora Feswig ebbero ballato il loro ballo fino in fondo, avanzando e ritraendosi entrambi le mani al compagno, inchino, riverenza, piruetta, in fila lago, di nuovo al proprio posto, Feswig fece una sforbiciata, e la fece in modo così abile che sembrò ammiccare con le gambe, e tornò sui suoi piedi senza nemmeno vacillare. Quando l'orologio suonò alle undici, il ballo casalingo terminò. Il signor Feswig e la signora Feswig presero i loro posti ai lati della porta, per stringere le mani a tutti coloro che, uomini e donne, gli auguravano il buon Natale. Quando tutti furono usciti tranne i due apprendisti, fecero la stessa cosa con loro, e così le allegre voci sfumarono, e i ragazzi vennero lasciati ai loro letti, che erano sotto un bancone del retrobottega. Durante tutto quel tempo Scrooge si era comportato come se fosse impazzito. Il suo cuore e la sua anima erano in quello spettacolo, e con l'antico se stesso. Incoraggiava tutto, ricordava tutto, si godeva tutto, e fu preda di una stranissima agitazione. Fu solo allora, quando i volti lieti di se stesso come era prima e di Dick si voltarono, che ricordò il fantasma, e si accorse che lo stava osservando con attenzione, mentre la luce sulla sua testa brillava chiarissima. Una cosa da nulla, disse il fantasma, per far sentire tanta gratitudine a questi sciocchi. Da nulla, gli fece eco Scrooge. Lo spirito gli fece cenno di ascoltare i due apprendisti, che stavano tessendo di cuore le lodi di Fezwig, e alla fine disse. Che diamine, non è vero. Ha speso solo qualche sterlina dei vostri soldi mortali, forse tre o quattro. È così tanto da meritare questa lode? Non è quello, replicò Scrooge colpito da quell'osservazione, e parlando inconsciamente come il se stesso antico, e non come era ora. Non è quello, spirito. Lui ha il potere di rendere felici o infelici, di rendere il nostro compito leggero o pesante, un piacere o una fatica. Diciamo che il suo potere è nelle sue parole e nei suoi sguardi, in cose talmente insignificanti che è impossibile sommarle e contarle. E come sarebbe allora? La felicità che dà è grande, come se costassi una fortuna. Avvertì lo sguardo dello spirito e si fermò. Cosa succede? Domandò il fantasma. Niente di speciale, rispose Scrooge. Sei sicuro? Insistette il fantasma. No, replicò Scrooge. No, in questo momento vorrei poter dire una parola o due al mio impiegato. Ecco tutto. Il suo antico io spense le luci mentre lui pronunciava quel desiderio. Scrooge e il fantasma si ritrovarono fianco a fianco all'aria aperta. Il mio tempo sta finendo, osservò lo spirito. Presto. Questa frase non era rivolta a Scrooge, né a nessuno che lui potesse vedere, ma produsse un effetto immediato, perché Scrooge si vide nuovamente. Adesso era più vecchio, un uomo nel fiore degli anni. Il suo volto non aveva le rughe severe e rigide degli anni più tardi. Aveva però iniziato a mostrare i segni delle preoccupazioni e dell'avarizia. Gli occhi avevano un moto ansioso, avido e irrequieto, che mostrava la passione che vi si era radicata e dove sarebbe caduta l'ombra dell'albero che cresceva. Non era solo. Sedeva accanto a una bella ragazza, vestita a lutto. Nei suoi occhi c'erano lacrime che brillavano alla luce che emanava il fantasma del Natale passato. Importa poco, disse lei piano. A te importa molto poco. Un altro idolo mi ha sostituita. E se potrà rallegrarti e confrontarti nel tempo a venire, come io avrei provato a fare, non ho un buon motivo per piangere. Quale idolo ti ha sostituita, ribatte Scrooge. Uno d'oro. Questa è la giustezza del mondo, disse lui. Non c'è nulla su cui si accanisca come sulla povertà, e non c'è nulla che professi di condannare con tanta severità quanto la ricerca della ricchezza. Hai troppa paura del mondo, rispose lei con gentilezza. Di tutte le tue speranze ti è rimasta solo quella di non essere oggetto del suo sordido rimprovero. Ho visto le tue aspirazioni più nobili cadere una a una, fino a che il padrone di tutte le passioni, il guadagno, ti ha monopolizzato, o no? E allora? Replicò lui. Se sono diventato più saggio allora, non sono cambiato verso di te. Lei scosse la testa. No? Il nostro contratto è vecchio. È stato fatto quando eravamo entrambi poveri e contenti di esserlo. Fino a che, al tempo giusto, avremmo potuto migliorare la nostra condizione nel mondo con il nostro paziente impegno. Tu sei cambiato. Quando l'abbiamo fatto, tu eri un altro uomo. Ero un ragazzo, rispose lui impaziente. I tuoi sentimenti ti dicono che non eri come sei adesso, insistette lei. Io sì. Ciò che prometteva felicità quando eravamo un cuore solo annuncia sofferenza adesso che siamo diversi. Non voglio nemmeno dire quante volte ci ho pensato e con quanto dolore. Basta dire che ci ho riflettuto e posso lasciarti libero. Ho mai cercato di esserlo. A parole no, mai. E allora come? Nel cambiamento del carattere. Nell'aver cambiato spirito. In un'altra atmosfera di vita, con un'altra speranza come tuo fine ultimo. In tutto ciò che ha reso il mio amore degno e valido ai tuoi occhi. Se fra noi non fosse mai accaduto nulla, continuò dolcemente la ragazza, ma con determinazione. Dimmi, mi cercheresti adesso e cercheresti di conquistarmi? Ah no. Dui parve a rendersi alla giustezza di quella supposizione, a dispetto di sé. Invece disse con sforzo. Tu pensi di no. Sarei contenta di pensarla diversamente se potessi, rispose lei. Lo sai il cielo. Quando vedo una verità come questa, capisco quanto forte irresistibile debba essere. Ma se tu fossi libero oggi, domani, ieri, posso credere che tu sceglieresti una ragazza senza dote. Tu, che persino nell'intimità con lei pesi ogni cosa con il guadagno, oppure scegliendola, se potessi tradire per un momento il tuo principio guida, credi che non sappia che pentimento e rimpianto seguirebbe senz'altro. È così, e io ti lascio libero, con il cuore pesante, per l'amore di colui che un tempo sei stato. Lui fu sul punto di parlare, ma girando il viso lei riprese. Forse il ricordo di ciò che è stato mi fa quasi sperare che lo farai. Proverai dolore per questo, per un momento molto, molto breve. Poi ne scaccerai la memoria con gioia, come un sogno che non dà profitto, da cui per fortuna ti sei svegliato, che tu possa essere felice nella vita che hai scelto. Lei lo lasciò e si separarono. Spirito, esclamò Scrooge, non mostrarmi più nulla, portatemi a casa, perché vi piace tanto torturarmi? Ancora un'ombra, esclamò il fantasma. Basta, gridò Scrooge. Basta, non voglio vederla, non mostratemi più nulla. Ma l'inflessibile spirito gli immobilizzò entrambe le braccia e lo costrinse a osservare quanto seguiva. Si trovavano in un altro ambiente e lungo, una stanza non grandissima né bella, ma molto accogliente. Accanto al fuoco invernale c'era una bellissima giovinetta, così simile a quella che aveva visto prima che Scrooge credette essere la stessa, fino a quando vide lei, adesso una decorosa matrona seduta davanti alla figlia. Nella stanza c'era un gran fracasso, perché c'erano più bambini di quanti ne potesse contare Scrooge nella sua agitazione. E a differenza del famoso greggio della poesia, non erano 40 bambini che si comportavano come se fossero uno solo, ma ogni bambino si comportava come se ne fossero 40. Ne risultava un frassuono indicibile. Nessuno però sembrava curarsene. Al contrario, la madre e la figlia ridevano di cuore, e si divertivano molto. E con quest'ultima, unendosi ai giochi, venne conciata per le feste da quei giovani briganti, e nella maniera più selvaggia. Cosa non avrei dato per essere uno di loro? Anche se mai avrei potuto essere così rude. Mai, mai! Per tutto l'oro del mondo non avrei disfatto quei capelli intrecciati spettinandoli, e quella preziosa scarpetta non l'avrei sfilata. Nemmeno morto. Quanto a misurarle la vita per gioco come fecero loro, covata, giovane e spavalda, non avrei potuto farlo. Devo però ammettere che mi sarebbe tanto piaciuto poterle toccare le labbra, e poterle rivolgere una domanda, perché le schiudesse. Poter guardare le ciglia dei suoi occhi bassi senza arrossire, scioglierle i capelli ondulati. Una sola ciocca sarebbe stata un pegno senza prezzo. In breve, mi sarebbe piaciuto, confesso, prendermi la più piccola delle licenze che hanno i bambini, essendo però abbastanza uomo da riconoscerne il valore. A quel punto, però, si odì un batter alla porta, e ne seguì immediatamente un gran trambusso. Lei, con il viso ridente e il vestito sottosopra, venne trascinata verso il centro di un gruppo esuberante e turbolento, appena in tempo per salutare il padre, che tornava a casa accompagnato da un uomo carico di regali e giochi di Natale. Allora le grida e la zuffa e l'attacco vennero spostate sull'indifeso garzone di bottega. Si arrampicarono sulle sedie come se fossero delle scale per frugargli nelle tasche, lo spogliarono dei pacchetti incartati e si attaccarono la cravatta, gli buttarono le braccia al collo, presero a pugni la sua schiena e gli calciarono le gambe in uno slancio irresistibile di affetto. Le grida di meraviglia, poi, e di delizia con cui veniva salutata l'apertura di ogni pacchetto, il terribile annuncio che il bimbo era stato colto nell'atto di mettersi in bocca la padella della bambola, e si sospettava, forse a ragione, che avesse ingoiato un tacchino finto e incollato su un piatto di legno, l'immenso sollievo quando si scoprì che si trattava di un falso allarme, la gioia, la gratitudine, l'estasi, erano tutti indescrivibilmente simili. Basti dire che a poco a poco i bambini e le loro emozioni uscirono dal salotto, e salendo un gradino alla volta raggiunsero l'ultimo piano, dove andarono a dormire e si calmarono. Adesso Scrooge guardava più attento che mai, quando il padrone di casa, mentre la figlia si appoggiava affettuosamente a lui, andò a sedersi con lei e sua madre al camino. E quando pensò che un'altra creatura così, con la stessa grazia e altrettanto piena di promesse, avrebbe potuto chiamarlo papà ed essere la primavera dell'inverno miserevole della sua vita, gli occhi gli si annebbiarono. «Bel», disse il marito rivolgendosi con un sorriso alla moglie, «ho visto un tuo vecchio amico questo pomeriggio». «Chi era?» «Indovina. Come faccio? Ma certo, come no?» aggiunse senza riprendere fiato ridendo mentre rideva anche lui. «Il signor Scrooge!» Era proprio lui. Sono passato davanti alla finestra del suo ufficio, e poiché non era chiusa e dentro c'era una candela, non ho potuto fare a meno di vederlo. Il suo socio, ho sentito dire, è in punto di morte, e lui era lì da solo, piuttosto solo al mondo, mi pare. «Spirito!» disse Scrooge con la voce rotta. «Portatemi via da questo posto!» «Che ho detto che queste sono le ombre di ciò che è stato!» replicò il fantasma. «Che siano nel modo in cui sono, non darmene colpa!» «Portatemi via!» esclamò. «Non lo sopporto!» Si girò verso il fantasma, e vedendo che lo guardava con un volto che in qualche strano modo conteneva frammenti di tutti i volti che gli aveva mostrato, gli si gettò contro. «Lasciatemi! Riportatemi indietro! Non perseguitatemi più!» Nella lotta, se si può chiamare lotta quella in cui il fantasma, senza opporre resistenza visibile, non veniva minimamente disturbato dagli sforzi del suo avversario, Scrooge osservò che la sua luce brillava alta e luminosa, e collegandola vagamente con l'influenza che aveva su di lui, prese il cappello spegnemoccolo con un movimento improvviso glielo calcò sulla testa. Lo spirito vi finì sotto, in modo da venirne del tutto ricoperto, ma sebbene Scrooge lo spingesse con tutta la sua forza, non riuscì a nascondere la luce che filtrava da sotto il cappello in un fascio ininterrotto che finì sul pavimento. Si accorse di essere esausto e sopraffatto da un irresistibile torpore, e inoltre di trovarsi nella propria camera da letto. Dette al cappello una stretta d'addio, in cui la sua mano si rilassò, ed ebbe appena il tempo di raggiungere barcollando il letto, prima di cadere in un sonno profondo. Bentornati su Narrazioni senza importanza. Siamo arrivati al secondo capitolo, alla seconda strofa di Canto di Natale, e mi sta piacendo tantissimo leggerlo, è veramente molto divertente, sono felicissima di potervelo portare. Con questo vi annuncio che ci sarà un'altra puntata per il 24 di dicembre, che sarà una puntata diciamo natalizia, sempre con Canto di Natale, per farci gli auguri, e poi riprenderemo anche la prossima settimana, nel giro di qualche altro giorno uscirà tutto quanto. Nel frattempo vi ringrazio per essere state in mia compagnia, vi ricordo che mi trovate anche su Instagram, Narrazioni Senza Importanza, e come sempre ci rivediamo alla prossima puntata. Grazie. Grazie. Grazie.